esiste. Buongiorno a tutti, io sono Bruno Crevato Selvaggi, direttore dell'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi, organizzazione di volontariato. Oggi è il 30 gennaio 2023 e questa è la seconda puntata dell'edizione di quest'anno del Tavolo dei Postali, ciclo di conferenze organizzato congiuntamente dall'Istituto di Studi Storici Postali Aldo Cecchi, dal Museo Storico delle Comunicazioni afferente al Polo Culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Quotidiano di Informazione Filatelica Online Baccari News e dall'Unione Stampa Filatelica Italiana. Fabio Bonaccina, che è qui con noi, è il direttore del Quotidiano di Informazione Filatelica Baccari News e ci ricorda brevemente che cos'è il Tavolo dei Postali. Prego. Buonasera, grazie per essere, per partecipare a questo incontro questa sera. Vi ricordo cosa è il Tavolo dei Postali e soprattutto cosa farà fra qualche giorno. Allora, Tavolo dei Postali, arte, conservazione, cultura, intrattenimento, sono i quattro filoni che cercano di valorizzare quelle entità, cioè amministrazioni pubbliche, associazioni private oppure persone singole, che fanno della posta qualcosa di diverso dal semplice servizio di trasporto delle persone. Perché si sente così bassa? In questo contesto abbiamo appunto queste dieci conferenze che stiamo facendo adesso, questa è la seconda, ma il febbraio si aggiunge, per favore scrivete i microfoni perché se no ci sovrapponiamo. Stavo dicendo, si aggiunge un'iniziativa in più che vi ha predento in questo momento. Dicevo, dal primo al quattordici febbraio, quindi quattordici febbraio, momento topico per l'amore per San Valentino, eccetera, grazie appunto al Tavolo dei Postali, due realtà che hanno collaborato sin dall'inizio in questa esperienza, hanno fatto un'iniziativa comune. Sono il Club di Giulietta, cioè l'associazione che per conto del Comune di Verona riceve ed eventualmente risponde alle lettere che vengono spedite alla Capuleti, e il Museo dei Tasso della storia postale che ha un compito diverso di valorizzare sia la storia della posta sia soprattutto la famiglia postale dei Tasso. Ebbene, queste due realtà hanno condiviso quattordici lettere spedite al Club di Giulietta nel tempo e che hanno meritato un riconoscimento da parte del Club di Giulietta perché sono quelle più originali, più interessanti, più simpatiche, più intense, e sono state scelte dal Club di Giulietta una per sera, una per giorno, verranno trasmesse, verranno valorizzate grazie a due lettori che sono Simonetta Freschi e Angelo d'Andrea in altrettanti incontri che verranno pubblicati su tutti i social delle due realtà. Quindi, ripeto, Club di Giulietta e il Museo dei Tasso della storia postale. È un modo diverso per parlare di amore, per parlare di questa esperienza, cioè il tavolo dei postali, e soprattutto di parlare di lettere che non necessariamente vengono spedite per posta, ma le vengono recapitate in altre maniere o addirittura per la posta elettronica, che però hanno un significato, hanno un interesse, hanno una bellezza e ci permettono di scoprire cose nuove. Io questa sera finisco qua. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie. Come dicevo, il tavolo dei postali è coorganizzato dal Polo Culturale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con noi la dottoressa Graziella Rivitti, direttrice del Museo Storico delle Comunicazioni che afferisce a questo polo culturale. Le lascio la parola per un indirizzo di saluto e mentre la dottoressa parla, io vi farò vedere un oggetto postale presente nelle collezioni del museo. Prego, dottoressa. Buonasera a tutti e a tutte. Sarà molto breve. Il Museo Storico della Comunicazione, per chi lo conosce e per chi non lo conosce, racconta proprio in un percorso storico che parte dagli stati preunitari fino ad arrivare alla storia degli anni 60 e quindi si chiude con la sala delle televisioni praticamente, il percorso della comunicazione. Quindi in principio appunto sono la posta, le strade che percorrono la posta, i mezzi che vengono utilizzati e quindi sia le diligenze, sia le biciclette, sia i treni e poi ci saranno le navi e gli aerei fino ad arrivare a una vasta esposizione dei telegrafi, primi calcolatori e poi ci sono gli oggetti che riguardano la comunicazione a partire appunto dall'invenzione del telefono, da questo grande inventore che è Menucci, che non è soltanto l'inventore del telefono, era un uomo veramente dalle mille visioni, diciamo che si è occupato anche di tantissime altre cose. voglio ricordare per esempio rapidamente che avevamo aperto una fabbrica di candele con Giuseppe Garibaldi nel periodo in cui Garibaldi ha transitato in America. Vabbè, questo è così, è un inciso. E poi insomma si arriva agli oggetti della comunicazione che riguarda la parte delle due guerre, fino poi ad arrivare alla parte di esposizione di Marconi con quella che è la sua più grande invenzione. quindi c'è anche poi una particolare ricostruzione con gli oggetti originali della nave Lettra con cui lui barcava appunto i mari per trasmettere e creare le connessioni interocenariche. Poi ci sono appunto la parte dedicata alla filateria e quindi la parte finale che riguarda alcuni oggetti di una collezione privata sulla corrispondenza, l'arte dello scrivere piccoli oggetti veramente pregiati, fino a poi all'esposizione appunto di quella che è la parte degli oggetti della marcofilia e la post-abriomatica. Questo che vedete mi sembrava giusto esporlo oggi in questo incontro, tra l'altro poi parleranno appunto la dottoressa Carnielli, di questo periodo che ci ha coinvolto, ma che non è la prima volta che coinvolge di fatto quelli che sono gli strumenti della posta, perché come vedete questa è la ricostruzione che noi abbiamo al museo, di un fornetto che serviva appunto per la disinfestazione della posta. Potete immaginare che sotto insomma venivano accesi e quindi c'era il fuoco che portava la fumitazione con l'utilizzo di particolari essenze che dovevano andare a disinfettare almeno la parte esterna della busta che veniva consegnata, per cui l'operatore poteva dire di aver consegnato questa busta che comunque era intatta. Per quanto riguardava il contenuto interno, lui la consegnava all'esterno disinfestata, ovviamente sull'interno non poteva darne garanzia. Io mi fermo qui e sono curiosa appunto di sentire l'esposizione. Grazie. Bene, grazie dottoressa. Allora i nostri ospiti di oggi sono la dottoressa Elisabetta Carnielli, che è il referente del Museo Mercantile di Bolzano, e il dottor Thomas Matà, studioso di storia postale e presidente dell'Accademia Italiana di Filatelia e di Storia Postale, che ci presenteranno Epidemie e Commercio, mostra attualmente in corso al Museo Mercantile, dove un'ampia sezione riguarderà anche i temi postali di cui ci parleranno. Prego ai nostri relatori. Aprendo il vostro microfono. Buonasera a tutti. Questa sera presenteremo la mostra appunto attualmente in corso, come è stato anticipato, la mostra Epidemie e Commercio, una mostra che è stata aperta in novembre, è stata inaugurata in novembre a Palazzo Mercantile e rimarrà visitabile fino a settembre di quest'anno. Il Museo Mercantile organizza periodicamente delle mosse temporane che hanno per oggetto particolari eventi, personaggi, episodi storici, che hanno a che fare con la vocazione del Museo Mercantile, quindi con la vocazione mercantile, commerciale e soprattutto economica. L'obiettivo proprio del Museo è quello di rendere più facili, appetibili e interessanti delle vicende storiche, anche abbastanza magari complicate, eccetera. L'obiettivo è quello di renderle accessibili a un pubblico, non solo Bolzanino, quindi non solo del territorio, ma anche gli ospiti che vengono dagli altri regioni, dalla Germania e soprattutto le scuole. Insomma, puntiamo molto sull'attività scolastica e quindi l'incontro con i giovani. La mossa che abbiamo voluto realizzare l'anno scorso, appunto Epidemia e Commerci, ovviamente è nata un po' sull'onda di quello che ci stava succedendo, quindi sulla pandemia che stava per finire, ma che per tanti aspetti ci ha coinvolto per più anni e che ha avuto dei risvolti sulla società, sull'economia e sulla vita personale molto forti. La mostra è stata curata dal dottor Helmut Rizzolli, storico dell'economia e profondo conoscitore della storia della città di Bolzano e del territorio, coadiuvato da un comitato scientifico formato dal professor Ripa Bonatti, che è professore di storia della medicina all'Università di Padova, e Federico Pigozzi, che invece è membro della storia patria di Verona e quindi conoscitore proprio del suo territorio, insomma del Veneto in particolare. Mi preme sottolineare che a questa mostra hanno partecipato molti studiosi di diverse discipline, quindi non solo storici dell'economia e della medicina, ma anche storici dell'arte, storici appunto della posta, e quindi sono stati toccati diversi punti. In più è una mostra, seppur piccola, che ha avuto particolari collaborazioni anche per quanto riguarda i prestiti. Siamo in contatto e abbiamo ricevuto oggetti sia da collezioni pubbliche italiane e anche estere, ma anche collezioni private, quindi oggetti rari che insomma non sono facili da osservare in altre occasioni. E in questa sede volevo particolarmente ringraziare appunto la dottoressa Rivitti, direttrice del Museo Storico delle Comunicazioni, che ci ha prestato alcuni oggetti veramente interessanti e preziosi riguardo alla posta. Un museo che sappiamo in questi ultimi anni non sta godendo di particolari fortune, nel senso che è chiuso al pubblico, una situazione insomma sia per quanto riguarda l'amministrazione, che è la visibilità danneggiata e che speriamo che nel futuro insomma si possa aggiustare come situazione perché penso che un museo, un po' come un museo mercantile, quindi un museo forse un po' di nicchio specializzato, sia particolarmente interessante per tutti, non solo per gli addetti ai lavori. Prima di addentrarci proprio in particolare sulla mostra, volevo fare un accarrellato, comunque un breve incipit su quanto riguarda, per quanto riguarda il museo mercantile. Il museo mercantile sorge appunto a Bolzano, nel Palazzo Mercantile, e appunto come già si capisce dal nome, la sua vocazione è proprio quella di raccontare la storia economica della città e del territorio. Bolzano fin dal Medioevo è stato un'importante città mercantile, godeva e gode di una posizione geografica particolarmente favorevole, sorge in una conca ai piedi del passo del Brennero, quindi vicino al passo del Brennero, che è il passo delle Alpi più basso, quindi facilmente percorribile in quasi tutte le stagioni dell'anno, e gode inoltre della vicinanza del fiume Adige, che è un fiume navigabile, era un fiume navigabile utilizzato soprattutto per i trasporti, quindi era un centro proprio nevralgico di collegamenti tra le regioni transalpine, quindi ovviamente l'attuale Austria e Svizzera e Germania, mentre per quanto riguarda l'Italia, soprattutto con l'Italia settentrionale e col Veneto in primis. In questa cartina geografica, proprio cartina geografica commerciale, commercial land cart, si vede Bolzano nel centro, un po' sotto una lente di ingrandimento, e si vedono anche le altre città di collegamento, e le città maggiormente interessate, soprattutto all'inizio dell'attività commerciale, sono stati Verona per l'Italia e Augusta per i paesi tedeschi. Bolzano è nata proprio come città, quindi mercantile, è stata fondata diciamo nel XII secolo, anche se non esiste un atto di fondazione della città, però la sua struttura ci fa capire proprio il periodo esatto, il periodo storico in cui è stata fondata. La città, questa che vedete, è una veduta dall'alto del centro storico di Bolzano e si nota questo ovale centrale, dato da una via centrale, una retta orientata est-ovest, che era la via del mercato, l'attuale via dei portici, e era formata da particelle edificabili che venivano assegnati ai vari mercanti che provenivano da nord e da sud e che quindi affittavano un terreno per poi costruire su una casa per svolgere la propria attività mercantile. Le case partivano praticamente dalla via centrale, si sviluppavano in profondità e raggiungevano quelle che erano le mura della città che poi sono state abbattute e che sono praticamente questo ovale che si vede, dove c'è scritto sud e nord per intenderci, questo ovale che delimitava la città e nel centro, in quell'ovale verde invece, è identificato proprio il museo mercantile, il palazzo mercantile. La vocazione mercantile della città ha fatto sì che Claudia De Mevici, arciduchessa d'Austra e reggente del Tirolo, vedova della sceduca Leopoldo V d'Asburgo, concedesse alla città il cosiddetto privilegio, quindi un ordinamento mercantile scritto che codificava gli usi e le consuetudini delle fiere di Bolzano e ha istituito il cosiddetto magistrato mercantile. Il magistrato mercantile era un tribunale commerciale che quindi si riferiva all'attività principe della città e aveva lo scopo di rimere le controverse che nascevano tra i mercanti, quindi sia di origine tedesca che di origine italiana, appunto le controverse che nascevano durante le fiere di Bolzano. A Bolzano si svolgevano quattro fiere che duravano 15 giorni l'una e questo tribunale aveva come compito quello di rimere queste controverse proprio durante il periodo di fiera, così che il mercante poteva lasciare Bolzano e recarsi in un'altra delle città mercantili d'Europa per continuare la sua attività di mercato con una situazione, diciamo, a Bolzano definita. e questo fu appunto grazie a Claudia de' Medici questo magistrato mercantile appunto un po' da volano, diciamo, dell'economia perché ovviamente sia da nord che da sud i mercanti erano molto invogliati a venire a Bolzano a svolgere la propria attività perché ovviamente qui le cose funzionavano bene e velocemente e quindi questo ha portato insomma a un arricchimento della città e del magistrato mercantile stesso. Il magistrato mercantile grazie appunto a questa a questo aumento insomma del giro d'affari praticamente ha potuto avere la possibilità di costruire un vero e proprio palazzo quindi nella posizione dei portici prima era in affitto poi all'inizio del Settecento riesce a costruire un palazzo in stile rinascimentale barocco uno dei più imponenti e particolare del centro storico di Bolzano arricchito ovviamente come potete vedere da dipinti, da arredi e insomma da oggetti d'arte veramente pregevoli quella che vedete nell'immagine è il salone d'onore che era proprio l'aula del tribunale quindi dove si svolgevano le udienze quindi nella nicchia alla mia destra si sedevano i giudici mentre nel resto della sala ovviamente c'erano i convenuti e chi ascoltava la sala nel secolo ovviamente è stata utilizzata anche per altri scopi il magistrato mercantile ha finito di esistere nel 1851 quando le competenze e i beni sono passate alla Camera di Commercio e quindi è un palazzo che ha sempre vissuto diciamo che non è mai stato abbandonato fino alla fine degli anni 70 del secolo scorso è stato utilizzato proprio come Camera di Commercio quindi il salone d'onore è diventata la sala di rappresentanza della Camera di Commercio e nelle sale che adesso ospitano le collezioni i documenti e i dipinti si svolgeva proprio l'attività amministrativa del magistrato mercantile cioè della Camera di Commercio scusate adesso scusate insomma se mi sono dilungata però penso che insomma capire come era strutturata Bolzano sia importante anche per il proseguio della spiegazione la mostra che abbiamo appunto inaugurato lo scorso anno ha avuto come punto principale quello di individuare le vie del commercio quindi le vie di comunicazione come principale causa del diffondersi delle malattie contagiose quindi delle epidemie in realtà come è successo tuttora quindi la globalizzazione lo scambio di merci e di persone le lunghe percorrenze hanno provocato insomma una diffusione a macchia d'olio delle malattie e così è stato fin dall'antichità l'istituzione quindi del magistrato mercantile e questo continuo scambio tra nord e sud possiamo identificarlo come la globalizzazione di adesso quindi non era coinvolto tutto il globo terrestre ma gran parte dei paesi insomma conosciuti e quindi Venezia e Bolzano quindi il Tirolo si sono trovate coinvolte e legate a doppio filo proprio anche in questo ambito Venezia come sappiamo è il porto maggiore dell'Europa con continui contatti con l'Oriente dove arrivavano le spezie le sete e i tessuti più peregiati e in questa veduta verso riva degli schiavoni vediamo proprio l'attività dei mercanti i mercantili che arrivavano da terre lontane e bisogna pensare che Venezia era il centro proprio di raccolta di questi beni che però passavano tramite Bolzano per essere poi distribuiti al di là delle Alpi in questa slide ha voluto rapportare questa veduta del Carlevaris questa veduta di Venezia con lo stemma del magistrato mercantile è molto interessante notare che in uno stemma così antico questa è una raffigurazione del 1750 ma gli elementi erano già contenuti nel privilegio di Claudio de' Medici del 1635 si vede la colonna ovviamente a Venezia c'è la colonna con sopra il leone di Venezia noi abbiamo una colonna con sopra il globo terrestre però in centro al dipinto e in centro all'immagine insomma è molto questa colonna sia a Venezia che nello stemma del magistrato sono presenti le balle di merci i barili utilizzati per il trasporto delle merci e quindi anche questo richiamo all'attività mercantile e sullo sfondo sia per Venezia che per lo stemma di Bolzano del magistrato i velieri ovviamente come ho detto prima e come sappiamo insomma a Bolzano non c'è il mare però è comunque simbolo di globalizzazione quindi di unità tra paesi lontani e diversi e in più come detto prima Bolzano era sfruttava anche molto il commercio fludiale quindi il trasporto delle merci su acqua e quindi questo aveva sicuramente importanza importanza essenziale per lo sviluppo in mostra abbiamo questa questa veduta in realtà fa parte di un documento una Gesellenbrief un diploma di apprendista dove c'è una parte scritta e la parte superiore è un'illustrazione questa è un'acqua forte che rappresenta Bolzano e qui ho evidenziato alcuni punti che possono essere interessanti allora in rosso è segnata la via dei portici l'antica via del mercato che prima abbiamo visto sulla foto che rappresentava il centro storico di Bolzano quindi la via dei portici si notano e sono evidenziate in giallo le porte della città quindi il ponte sull'Isarco sul fiume Isarco quindi il ponte l'Isarco è il fiume che viene da nord praticamente dal Brennero poi il ponte sul Talvera e l'altra porta invece che faceva uscire o entrare insomma i mercanti a Bolzano in caso di epidemie soprattutto le porte venivano chiuse in modo tale che la città rimanesse isolata e questa è proprio una caratteristica insomma importante per Bolzano che potesse essere potesse rimanere isolata ovviamente la possibilità di non espandere il contagio comunque quando i contagi erano fuori di non farli entrare in città era molto importante anche perché spargere notizie di mali contagiosi era usata anche come metodo deterrente tra la Repubblica di Venezia e Bolzano perché comunque c'era una concorrenza tra le due e spesso insomma si è potuto notare che Venezia dichiarava che a Bolzano c'era appunto il male contagioso in modo tale che gli operatori non passassero più per le fiere di Bolzano ma leggiassero magari le fiere di Verona o di altre parti e quindi insomma anche in quel caso questo queste questi allarmi insomma erano dati non erano sempre fondati e in questa in questa veluta ho anche indicato il lazzaretto vicino al ponte sull'Isarco anche Bolzano aveva il suo lazzaretto quindi al di fuori dalle mura della città ovviamente per mantenere gli appestati e i malati al di fuori lazzaretto che però non ha lasciato traccia nel senso che effettivamente non ci sono non ci sono né documenti scritti né prove attuali insomma che dove esattamente è stato c'è stato il lazzaretto un'altra cosa interessante di questa veduta è che in primo piano si nota lo stemma della città di Bolzano quindi lo scudo ripartito con in centro la stella che è ancora oggi lo stemma della città di Bolzano e circondato lo stemma circondato da bale di merci barili che simboleggiano l'attività mercantile nel senso che questa era proprio la prerogativa della città e una cosa che mi piace in questo in questo frangente sottolineare sono anche le lettere in basso proprio in basso si notano le lettere con i sigilli che come ci spiegherà Thomas dopo sono fondamentali anche per il commercio e il magistrato mercantile si sviluppa soprattutto per i mercati a lunga distanza quindi parlando di epidemie si parla di vie di commercio ovviamente a lunga distanza però c'è da dire anche che l'attività mercantile ha fatto sì che gli imprenditori proprio bolzanini partecipassero attivamente all'attività quindi non solamente imprese a livello europeo diciamo ma anche quelli locali un esempio è l'impresa mercantile Georg Anton Menz che era un'impresa appunto fondata da un bolzanino che si dedicava in particolar modo al commercio a lunga distanza delle stoffe dei tessuti i tessuti erano proprio una delle merci maggiormente commercializzate durante le fiere di Bolzano in questa esposizione abbiamo esposto questo libro di commissioni che presenta sulle pagine oltre a notazioni tecniche come il nome del fornitore la tipologia della merce la quantità della merce ordinata anche dei pezzetti di stoffa incollati e queste servivano un po' come promemoria diciamo per le ordinazioni che la ditta faceva ai suoi fornitori in questo caso la pagina è aperta proprio su dei tessuti chiamati camelotti e si chiamavano così perché originariamente erano fatti proprio tessuti con i peli di cammello e questo mi piaceva come richiamo diciamo ai contatti che l'Italia o comunque Venezia aveva con l'Oriente quindi i peli di cabello sicuramente erano passati attraverso Venezia e poi giunti a Bolzano ma queste porte della città quando è che venivano chiuse e per quale motivo erano state erano state realizzate prima cosa per ovviamente il pagamento del Dazio nel senso che prima di entrare in città il mercante doveva doveva insomma far vedere le merci che trasportava e le merci venivano pesate a seconda della della qualità o comunque della tipologia di merce doveva pagare il Dazio ma in tempi di epidemie questi posti di blocco venivano utilizzati anche per il controllo delle fedi di sanità la fede di sanità come dal trono del Lazzaretto è un'invenzione veneziana che poi viene sviluppata anche in altri in altri paesi le fede di sanità sono dei documenti emessi dai dalle autorità sanitarie i cosiddetti provveditori alla sanità anche essi invenzione veneziana questi documenti che attestavano che le merci le persone provenienti da una certa città da una certa regione erano libere da ogni sospetto di male contagioso come evidenziato nella prima fede di sanità dove c'è proprio scritto che non ci sono sospetti di male contagioso ovviamente con questa fede di sanità si andava veniva emessa da Bolzano in questo caso e la merce ovviamente proseguiva il suo viaggio e la destinazione era Verona quindi prima di arrivare a Verona veniva controllata dalle autorità le fedi soprattutto quelle di Bolzano la maggior parte erano scritte in lingua italiana allora ovviamente Bolzano faceva parte del Tirolo ma l'utilizzo della lingua italiana era comunque perché le merce andavano verso l'Italia ma soprattutto perché l'italiano era la lingua franca quindi la lingua commerciale per eccellenza e quindi da tutti conosciuta è stato abbiamo è stato individuato un un esemplare finora unico di fede di sanità emessa da Bolzano però scritta in tedesco particolare veramente abbiamo solamente questo questo caso e questa fede probabilmente era destinata ai paesi al di là delle Alpi in questo caso si fa riferimento alla good all'aria buona e sana e fresca e pulita che c'era appunto a Bolzano prima della scoperta dei batteri dei virus eccetera una delle cause attestate di diffusione insomma della fessi o di altri mali contagiosi era effettivamente l'aria quindi su queste fede di sanità spesso si legge che l'aria da cui provenivano le merci e le persone era comunque pulita e sana in questa carta in questa sì una carta geografica dove sono del territorio veneto dove sono evidenziati i cosiddetti rastrelli che erano appunto queste caselli insomma di Dazio questi uffici insomma dove venivano controllate le merci le persone bisogna pensare che le fede di sanità bisogna pensare che le merci spesso venivano sballate completamente nel senso che i pacchi venivano aperti controllato il loro contenuto e se la merce proveniva da una zona sospetta in prossimità di questi di questi caselli di Dazio c'erano delle zone dove le merci dovevano stare in quarantena quindi dovevano aspettare un certo periodo per non essere più contagiosi e poter proseguire il loro il loro viaggio questa carta geografica proviene dall'archivio di stato di Verona in mostra abbiamo solamente una copia perché l'originale è veramente molto grande due metri per uno è molto delicato anche perché è colorata a mano e quindi è anche un pezzo un pezzo unico insomma molto molto interessante in questa parte in questa parte più scura in giallo si vede proprio il confine tra territorio Veneto e l'Austria insomma i territori austriaci poi ci addentriamo di più nella parte medica chiamiamola così come detto non 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 avendo scoperto insomma ancora i batteri i virus eccetera non si sapeva bene insomma come comportarsi in caso di queste malattie contagiose l'aria era una delle cause a cui veniva attribuito questa diffusione sicuramente sicuramente insomma i medici si cercavano insomma di alleviare anche questi dolori quindi era praticamente veniva istituito questo medico della peste un medico della peste che veniva che era protetto ma già in antichità in questo fascicolo di medicina un libro del 1494 viene rappresentato il medico della peste con abiti normali questo è vero però con in mano quindi davanti al davanti al viso il così un cosiddetto pomo questo pomo era un agglomerato di diverse sostanze eh come chiodi di garofano foglie di rose rosse sostanze profumate il cardamomo la camfor eccetera che avevano un scopo di filtrare l'aria appunto l'aria era questa quella che causava tutti i mali e quindi possiamo identificare questo pomo come una una mascherina antelittera mascherina che poi è stata utilizzata anche nei casi di febbre spagnola alla fine della prima guerra mondiale ma soprattutto insomma da noi molto usata fino a non molto tempo fa e quindi questa è una versione antica però molto molto interessante e attuale poi c'è il medico della peste un po' come lo come nella nostra fantasia insomma è rappresentato e un medico con questi abiti protettivi con un cappuccio o una maschera che conteneva delle essenze sempre per filtrare l'aria in questo caso abbiamo una versione diciamo antica questa statuetta che in realtà è alta 15-20 centimetri quindi piccola fatta di avorio di manifattura portoghese che deriva che ci è stata in prestito dal dal museo di medicina di storia della medicina del museo di Ingolstadt e affiancata c'è una rappresentazione invece moderna del medico della peste medico della peste che ormai ormai tutti conoscono nel senso che viene utilizzata sia come maschera famosa quella del carnevale di Venezia ma anche film sceneggiati eccetera e questa è una versione moderna infatti dell'anno scorso abbiamo degli acquerelli in mostra degli acquerelli originali di Stefano Bino di questa graphic novel che si intitola proprio Bartolomeo Salazar l'ultimo medico della peste è una graphic novel di questo medico che operava nel Lazzaretto di Cagliari che tuttora esiste durante un'epidemia di Colera nei primi dell'Ottocento e quest'anno uscirà anche una seconda edizione ambientata invece a Venezia nella mostra una parte interessante ma soprattutto anche nel catalogo uno studio approfondito sull'atteriaca l'atteriaca diciamo che era una delle uniche medicine che poteva essere utilizzata contro la peste anche se effettivamente non si sa quanto potesse potesse portare i suoi frutti era composta da 63 ingredienti tra cui la maggior parte di origine vegetale però c'erano anche come si dice elementi minerali e soprattutto la carne di vipera allora prima cosa bisogna dire che solamente farmacie autorizzate di Venezia avevano la possibilità di realizzare o di confezionare questo preparato in più si dovevano mettere sulla pubblica piazza perché doveva essere visibile a tutti effettivamente cosa veniva utilizzato per questo medicamento chiamiamolo così 63 ingredienti tra cui appunto tanti conosciuti comuni come le foglie di menta lo zafferano c'era lo zenzero il cardamomo il pepe nero il miele la cannella quindi insomma diciamo elementi che sono tutt'oggi utilizzati per uno o l'altro motivo ma appunto questa carne di vipera che nel preparato aveva un po' lo scopo di essere utilizzato come antidoto diciamo contro il veleno e questa arteriaca veniva utilizzata come panacea proprio per tutti i mali quindi veniva diffusa ovunque e veniva utilizzata per ogni per ogni tipo di male e questa questo medicamento è stato appunto in catalogo analizzato quindi si è ricavato il principio attivo di ogni elemento arrivando però alla conclusione che sì c'erano sostanze magari cardiotoniche o magari digestivi che aiutavano la digestione ma probabilmente la maggior il maggior effetto lo avevano le oppiacee quindi insomma l'antidolorifico praticamente quindi tutte queste sostanze venivano introdotte nel corpo ma insomma era l'unico che aveva effetto erano probabilmente gli oppiacei la teriaca una volta che veniva pestata in un mortaio appunto sulla pubblica piazza veniva poi conservata in grandi vasi come quelli esposti in mostra che sono della più o meno della fine del seicento di una manifattura bassanese e presentano proprio il nome di teriaca quindi insomma erano proprio utilizzati per questo scopo il preparato veniva poi confezionato in piccole boccette come quelle presenti in questo cofanetto simili e venivano tappate con questi tappi noi ne abbiamo trovati cioè noi in mostra ne abbiamo esposti due che derivano da degli scavi archeologici del Castel Presule quindi un castello nelle vicinanze di Bolzano quindi non si sa la data però sul tappo sono riportati due segni che fanno che fanno capire la provenienza quindi appunto farmacie spezzerie veneziane che sono al campanile veneto e testa di moro quindi solamente queste due e poche altre spezzerie avevano la possibilità insomma di confezionare questo medicinale in mostra accanto appunto ai vasi di terriache abbiamo questi cofanetti di farmacia che sono di manifattura tirolese del nostro territorio quindi risalente diciottesimo diciannovesimo secolo erano praticamente delle baligette con appunto queste medicine questi preparati varie essenze e anche piccoli strumenti da medicina che venivano trasportati ovviamente nei lunghi viaggi sulla carrozza e prima di intraprendere il lungo viaggio il proprietario ovviamente li portava alla farmacia faceva controllare il contenuto e ovviamente rabboccare i medicinali che erano che erano finiti e questo è molto molto interessante molto particolare una sezione della mostra è stata dedicata alla devozione quindi la parte religiosa un po' perché queste malattie insomma queste malattie epidemie eccetera e non avendo una causa definita erano per la gente comune erano considerate punizioni divine quindi erano cose che venivano che venivano dall'alto e nell'altro senso anche perché per riuscire a guarire da queste malattie non rimaneva altro che evocarsi ai santi protettori nel caso specifico abbiamo un ex voto che è in collezione privata ma è realizzato per una casa dei portici di Bolzano tuttora c'è una copia proprio al suo posto nel centro si nota questa casa al civico 18 della via dei portici che tuttora ha questa forma nel senso che nei secoli non è cambiata il dipinto è del 1635 quindi l'anno in cui Claudia de' Medici concede il privilegio e sappiamo che Claudia de' Medici nel 1635 ha lasciato la corte di Innsbruck per venire proprio a Bolzano per scampare alla peste che imperversava nella valle dell'Inn e quindi è una concomitanza molto molto interessante questa casa ai lati di questa casa ci sono i due santi protettori della peste che sono San Rocco e San Sebastiano San Rocco si riconosce dal mantello da pellegrino dal cappello e dal bastone lui era un pellegrino e la leggenda racconta che in un suo pellegrinaggio verso Roma rimane colpito dalla dalla peste infatti in quasi tutte le rappresentazioni si vede San Rocco che tiene la veste un po' rialzata per far vedere il bubone della peste che ha sulla gamba e San Rocco quando si accorge di essere malato di aver preso appunto la peste si mette in auto isolamento quindi un po' quello che succede è successo a noi spesso si mette in auto isolamento e si mette si ripare in una grotta in questo caso è un cane che spesso viene raffigurato qui lo vediamo vicino ai suoi piedi è il cane che li porta regolarmente da mangiare quindi San Rocco non muore di stenti anzi non muore neanche di peste quindi per questo motivo è universalmente riconosciuto come protettore della peste San Sebastiano invece è stato martirizzato con colpi di freccia e probabilmente le ferite che le frecce hanno lasciato sul corpo fanno ricordare insomma un po' le pustole della peste per questo anche lui è considerato considerato un santo protettore per quanto riguarda la devuzione un altro oggetto molto interessante è questo standardo votivo questo è di Trento il periodo è sempre quello 1630 e questo standardo votivo quindi che veniva esposto durante le processioni proprio per per evitare insomma le le epidemie successive in questo caso si nota e si vede si riconosce Trento quindi il lazzaretto fuori dalle mura come succedeva anche a Bolzano quindi al di là del fiume fuori da Bolzano qua su una nuvola si vede Maria che intercede tra cielo e terra San Vigilio vestito in rosso vescovo che era il che è il patrono di Trento e vicino San Rocco anche qua si vede il cappello e il bastone da da pellegrino la cosa particolare sono questo lazzaretto insomma come è strutturato questo lazzaretto dove quegli infettati insomma rimangono vengono rinchiusi praticamente vengono adagiati in queste piccole stanze che sono in realtà delle botti quindi che permettono insomma di non essere a contatto uno con l'altro e uno si può chiedere ma perché venivano utilizzate le botti ovviamente non si doveva questo permetteva insomma di non costruire una struttura una struttura fissa e siccome il lazzaretto si trovava sia al di fuori della città ma vicino al fiume Adige fiume Adige navigabile quindi probabilmente le botti e i barilli erano degli oggetti insomma facilmente facilmente reperibili all'interno del campo ovviamente c'era anche la parte per la preghiera per la devozione quindi anche qui c'è un altare con con il crucifisso dottoressa stiamo un po' sforzando con i tempi infatti adesso ho finito molto velocemente ecco se possiamo magari passare a Thomas perché adesso lascio proprio la parola a Thomas per quanto riguarda la posta e la parte interessante che lui ha affrontato nella mostra e nel catalogo grazie buonasera un saluto particolare a tutti gli accademici che vedo numerosi questa sera questa piccola sezione che ospita questa esposizione dedicata alla posta fa vedere in maniera esemplare il carattere della multidisciplinarità e della complementarità della posta ovvero quello che la fede di sanità era necessaria per le persone qui vedete un esempio di una fede in bianco invece a destra un trattato un interessantissimo trattato di Modena dovevano ovviamente lasciare delle tracce anche sulla corrispondenza epistolare che come l'esempio di Bolzano in un contesto transfrontaliero era ovviamente di particolare necessità il piccolo cabotaggio poteva anche esistere senza corrispondenza ma ovviamente dovendo comunicare continuamente e regolarmente tra Augusta Monaco e Venezia Bolzano doveva scrivere e come racconta l'articolo di Giorgio Migliavacca nel catalogo di questa esposizione aveva bisogno di diverse procedure e strumenti nel tempo presenti anche nella mostra date per gentile concessione da parte del Museo Storico della Comunicazione le pinze per tenere le lettere il fornetto che qua mostriamo solo in immagini li abbiamo visto anche prima o il rastrello del famoso capitano Rascotto che c'è a Trieste e che purtroppo non ha potuto venire a Bolzano ma fa vedere molto bene i fori che sono stati prodotti sulle lettere come qui accanto ci sono la disinfezione ha dovuto quindi essere fatta vedere anche con bolli che sono stati prodotti ad hoc c'è una molteplicità di tipologie che in mostra su alcuni facciamo vedere che confermavano quindi l'espurgazione la disinfezione sia dentro che fuori o solo dentro o solo fuori queste diverse possibilità poi ovviamente dovevano violare il segreto epistolare cosa che oggi più che mai sappiamo che è fondamentale ma purtroppo poi i governi oltre a disinfettare hanno fatto anche dell'altro e un po' clandestinamente hanno anche letto le preziose informazioni commerciali contenute la mostra chiude diciamo facendo vedere alcuni esemplari alcuni esemplari di lettere che raccontano poi come la posta sia interessante non solo come fine a se stesso ma appunto come settore multidisciplinare bene grazie volevo solo ricordare appunto siamo abbiamo ho sforato un po' troppo vabbè io ho parlato un po' un po' troppo quindi la parte dedicata al dottor Matama forse con delle domande riesce a approfondire ancora un po' io comunque mi premeva di di sottolineare che per questa per questa mostra come poi nelle altre che abbiamo organizzato il museo mercantile abbiamo pubblicato un catalogo che contiene sia le opere esposte che appunto degli approfondimenti scientifici molto interessanti quindi sulle vie commerciali sulla diffusione della peste su le tipologie di viaggio sulle cure che bisognava mantenere in caso di viaggi a lunga distanza e poi appunto il testo di approfondimento di Giorgio Migliavacca e di Thomas Matà sulla posta con dei risvolti molto interessanti un contributo del dottore Zolli proprio sulla attività di Bolzano sulle fedi di sanità sono state analizzate parecchie fedi di sanità che sono una fonte inestimabile di informazioni commerciali e non solo per per il commercio la storia del commercio e l'ultimo capitolo invece di Simona Nardi che approfondisce l'aspetto appunto religioso e artistico di cui ho fatto solo cenno a due rappresentazioni ovviamente vi aspettiamo a questo punto al museo mercantile per la mostra se è possibile ma anche insomma il museo stesso come museo come casa museo come mi piace definirla sicuramente diciamo vi aspettiamo insomma a braccia aperte un'ultima considerazione breve da parte mia chi si interessa di posta come è il caso anche di stasera lo studioso di storia postale vedendo ed esaminando gli oggetti e leggendo i testi ha veramente una percezione meravigliosa nel suo insieme come trasporto economia comunicazione sono strettamente collegati e nel caso della pandemia che effetti ha l'uno sull'altro quindi in tal senso posso veramente raccomandare la visita che anche ai studiosi di storia postale è utilissima bene molte grazie sì certamente le ultime parole di Thomas sono molto condivisibili perché la posta non è altro che un aspetto fondamentale nella società e per proprio carattere interdisciplinare collega fra loro diversi aspetti delle relazioni umane quindi è un fil rouge un un collante di queste vari aspetti che sono narrati in diverse sezioni e può permettere un punto di vista e una lettura il completa di questo percorso il vi è una domanda online da parte di Michela Giupponi che chiede come si può acquistare il catalogo ovvero se il catalogo è acquistabile online senza recarsi fisicamente a Bolzano allora in realtà basta scrivere un'e-mail a me personalmente o telefonare e poi il pagamento avviene con Pago PA e noi spediamo gratuitamente poi il catalogo bene allora chiunque voglia acquistare questo catalogo ne approfitto per salutare fra gli autori del catalogo Helmut Rizzolli e Federico Pigozzo con cui ho da anni diverse relazioni sia amicali sia di collaborazione editoriale per cui insomma mi ha fatto piacere rivederli in questo in questo catalogo il apriamo anche a un gruppo di domande e per rompere il ghiaccio ne parto io con la prima nella mappa della città del 1700 il diploma di apprendista che ci ha fatto vedere quella che aveva le lettere in primo piano era individuato anche il lazzaretto ci ha però detto che non esiste documentazione né archeologica né documentale sulla posizione di questo lazzaretto allora mi chiedevo come mai è stato posizionato in quel luogo se non ve ne è evidenza è una posizione di fantasia oppure comunque vi sono delle tradizioni allora nello specifico bisognerebbe chiedere al dottor Rizzoli probabilmente ci sono degli iscritti che fanno riferimento a un ospedale fuori dalla chiusa e quindi la posizione è quella fuori dalla dalla porta insomma del ponte sull'isarco dove c'è dove c'era adesso non c'è più una una chiesa la chiesa di Santa Maria di Loreto e quindi questa evidenza fa presupporre insomma che il posizionamento fosse quello bene grazie Sergio De Benedictis ha alzato la mano prego la mia è una curiosità ed è la domanda per Thomas Matà nella sua veste di perito allora avendo avuto in mano un po' di queste chiamiamole prefilateliche di posta disinfettata chiamiamola così e non perché io ne faccia una mia particolare collezione ma perché sono rinvenute tra oggetti postali della famiglia mi sono sempre chiesto anche in questo questo campo quindi in questo settore c'è la piaga diciamo del falso come in altri settori della filateria cioè mi sembrerebbe guardandole che basterebbe forse prendere adesso dico molto banalmente una prefilatelica da poche lire fargli un po' di tagli fumicarla sul barbecue di casa e quindi che cosa fa poi cioè quali sono i criteri per stabilire l'autenticità se ci sono dei falsi e quindi stabilire poi qual è l'autenticità del pezzo allora le falsificazioni sono soprattutto sui bolli esistono bolli di sanità molto rari che possono anche essere quotati in migliaia di euro e ovviamente data questa la circostanza i falsari si addentrano e quindi il compito dell'esperto è di verificare se tutte le circostanze su una data lettera possono essere giuste e se disparte diciamo il bollo di per sé quindi se corrisponde un esemplare che invece è sicuramente autentico abbia tutte le caratteristiche restanti su una lettera quindi la datazione il percorso eccetera eccetera io direi anche per esempio che una uno studio che si potrebbe fare è se in quell'area in quel momento vi era in corso un'informazione di epidemia e quindi erano stati attivati i cordoni sanitari oppure no di sicuro fortunatamente disponiamo di studi molto molto importanti di cui Luciano De Zanche o Adriano Catani che ci hanno lasciati fortunatamente importantissime note mi sembrava di aver letto che anche diciamo tra un tra un arzaretto e un altro è possibile capire dai tagli cioè diciamo proprio da come sono da quale inclinazione dei tagli da come sono stati i tagli capire se è di quel questo più che altro per capire diciamo se la provenienza è giusta e se il pezzo forse è corretto giusto? È giusto effettivamente sia per Stato che per singolo ufficio di contumacia abbiamo evidenze dei rispettivi trattamenti bene vi sono altre domande o richieste di intervento commenti allora se non è così fatemi vedere se in chat vi è qualche domanda ma non ce n'è mi sembra che Giorgio Migliavacchi abbia stato la mano sì scusa non non vedo però Giorgio prego volevo dire che di straniere specialmente si sono interessati molto della posta disinfettata e diciamo prima è stato il mayor che ha fatto quel libro fondamentale studio fondamentale e poi sono venuti è venuto Dennis Vanderfeld che ha fatto anche una rivista che si chiama Pratik e poi a questo punto siccome la vecchiaia si avanza per tutti un gruppo di collezionisti tedeschi hanno anche fatto un sito sulla posta disinfettata e non è molto facile gabbare questi specialisti perché sono molto ferrati anche solo in Italia io ho fatto un libro poste, osti e peste a Pavia il Franco Rigo ha fatto la sua parte per Venezia e diciamo un po' dappertutto c'è chi ha toccato questo argomento per cui per il falsario è un po' una perdita di tempo non riesce a convincere e infatti non si vedono i falsi così facilmente i tagli se poi uno dice beh non c'è il timbro ma ci sono i tagli o ci sono i punteruoli eccetera eccetera e comunque non bastano neanche quelli e io recentemente ho acquistato una lettera che veniva dall'Ucraina moderna e veniva a Genova e aveva questi punteruoli ma però quando è arrivata in Italia la sanità l'ha diciamo vidimata ha messo dei sigilli e vuol dire che l'ha controllata quindi mettere dei dei buchi o mettere dei tagli non funziona non funziona l'ultima cosa che volevo aggiungere è un aspetto folcloristico se così lo possiamo chiamare nell'archivio civico di Pavia dopo che io l'ho buttato sotto sopra mi viene uno degli inservienti con una scatola me la porta lì e io la guardo la apro e ci sono dentro tanti bigliettini con scritto mortus test è morto e questi erano i bigliettini che sui cadaveri venivano spillati e messi lì in modo che il cadavere che c'era per strada lo si dichiarava morto il medico era passato l'aveva fatto e aveva messo questo piccolo appunto che era morto il fatto è che nella tradizione lombarda forse sarà anche in qualche altra regione è molto famoso il detto mortus est non magna più polenta e allora io mi sono diciamo chiesto se questo non aveva qualcosa a che fare e il detto è nato proprio da un fatto reale infatti infatti si può vedere il capanello di persone che vanno lì a curiosare perché si dice di stare lontano ma come sempre quando ci sono incidenti o ci sono sono tutti lì a guardare qualcuno vede che c'è questo bigliettino attaccato e quello che sa leggere lì si abbassa e lo legge e dice mortus est e la folla dice non magna più polenta ho finito grazie alzato la mano Rocco Cassandri prego volevo solo ricordare che a Bologna nell'ottobre del 1980 fu organizzata una bellissima mostra collettiva sui documenti sanitari dell'area italiana mostra dall'altro patrocinata oltre che dell'AISP dall'Accademia Italiana di Studi Filadetici Numismatici appena nata e ovviamente l'organizzatore l'animatore era il buon Mario Gallenga nostro mentore caro caro fedele che te ricordo verrai benissimo e fu pubblicato un catalogo che raggruppava tutto quello conosciuto di bolli sanitari e vari italiani è diventato veramente il volume di riferimento per tanti anni e mi sembrava giusto e doveroso ricordarlo anche perché era la una delle prime volte che si organizzava una mostra collettiva con vari donatori c'è stata una grossa mostra a Venezia e parimenti non si può diciamo sorvolare sul lavoro del professor D'Agostino che ha fatto nella zona del regno di Napoli infatti ha preso piede ecco i medici più che altri per esempio Bellagarda in Piemonte ancora oggi diciamo ha fatto anche lui ha messo pietra su pietra e la conoscenza di questo soggetto della posta disinfettata si è sempre espanso si è sempre allargato e ha fornito informazioni non indifferenti bene e a proposito di Bologna sul tema ricordo naturalmente anche Nello Bagni esatto e certamente bene mi sono prego se posso Lorenzo vai ecco volevo dire che la letteratura in questo settore è molto diffusa molto profonda e molto profondita e anche sulle riviste al giorno d'oggi l'argomento è trattato in maniera spesso notevole ecco anche sul bollettino ci sono stati bollettino che bollettino prefigliatari che era di Andrea Cattani ci sono stati molti articoli su questo soggetto e molti ce ne saranno anche nelle prossime edizioni tornando alla mostra di Bolzano volevo evidenziare diciamo un particolare di questa mostra ma anche normalmente delle solite mostre che vengono fatte a Bolzano oltre alla bellezza la puntualità e l'importanza la durata di queste mostre queste mostre questa mostra come tante altre dura dieci mesi quindi c'è stata necessità di un'organizzazione di un appuntamento ma delle spese ma per dieci mesi è possibile visitarla non è una mostra epimora che dura tre giorni una settimana e poi si chiude quindi abbiamo se vogliamo tutto il tempo per andare a visitare perché mi pare che dura fino a settembre di quest'anno quindi abbiamo tempo di andarsi in primavera e anche l'estate a fare un giro e oltre a questa mostra Thomas non l'ha detto ma oramai l'abbiamo raccontato a tutti e questo riguarda a quelli che appassionati di storia postale in quel palazzo della camera di commercio all'ultimo piano c'è l'archivio mens con 250.000 250.000 ripeto lettere del periodo della fine 700 prima 800 che possono essere guardate e osservate un po' dei visitatori che vanno a visitare il palazzo basta grazie vi sono altri commenti allora io ringrazio Elisabetta Carnielli e Thomas Mattà ringrazio tutti i partecipanti vi do appuntamento alla settimana prossima ricordo che il tavolo dei postali è un'organizzazione congiunta del polo culturale del ministero delle imprese del Made in Italy dell'istituto di studi storici postali Aldo Cecchi del quotidiano l'informazione filatelica online Baccari News e dell'unione stampa filatelica italiana e invito per chiudere Fabio Bonacina a presentarci l'evento la conferenza del prossimo lunedì prego bene 6 febbraio ore 18 come stasera cambieremo completamente argomento ci sarà Bruno Nadic che è dell'associazione amici del museo postale di Parigi e ci parlerà appunto di questa struttura e della sua evoluzione nel tempo perché il museo fino al 2013 ha avuto un'impostazione poi ha avuto un grosso cambiamento è stato riaperto dopo anni di chiusura nel 2019 e Nadic spiegherà appunto come si è arrivati alla decisione di cambiare le problematiche insite nel trasferimento provvisorio nel rifacimento e poi come adesso come si può scoprire adesso andando a Parigi ovvero le tre parti tematiche le raccolte che vi sono ospitate e la nuova filosofia che caratterizza questo percorso per cui vi do l'appuntamento vi diamo l'appuntamento per il 6 febbraio alle ore 18 grazie e buona serata grazie a tutti buonasera io volevo ringraziare scusate se mi sono dilungata spero che sia stato comunque interessante vi aspetto al museo certo interessante grazie arrivederci ciao